Donald Trump ha gettato benzina sul fuoco delle proteste razziali negli Stati Uniti, programmando la sua prima campagna elettorale post-pandemia nel giorno peggiore dell'anno, June Teeth, che commemora questo venerdì la fine della schiavitù nel paese, e ha scelto il più sfortunato dei luoghi, Tulsa, palcoscenico nel 1921, di uno dei peggiori massacri razziali nella memoria del paese. Sebbene per i sostenitori del Presidente, che stanno già iniziando a riunirsi, non sia un problema, la controversia ha costretto Trump a ritardare la sua manifestazione. Penso che ci saranno temi molto importanti che il Presidente introdurrà qui e volevo essere qui per sostenere il suo messaggio, che riguarderà la legge e l'ordine, ne sono sicuro. Ma il danno è fatto. La critica a Trump si sta moltiplicando. Lo accusano di mancanza di rispetto, di creare tensioni e di fare l'occhiolino ai suprematisti bianchi, quindi oltre che ai suoi sostenitori. Molti dei suoi detrattori dovrebbero essere a Tulsa questo sabato e, come spesso accade, il Presidente ha fatto di tutto per aizzare gli animi. Orreso Jun Teeth, molto famoso, ha detto in un'intervista che ha provocato un immediato contraccolpo. In realtà è un evento importante. Un evento che però nessuno aveva mai sentito. Questa commemorazione dovrebbe essere una delle più importanti, poiché il governo degli Stati Uniti continua a favorire le proteste e non ferma la violenza della polizia contro gli afroamericani e il razzismo nel paese. Con tutti i discorsi sull'uguaglianza razziale e la giustizia, molte persone stanno guardando a Jun Teeth come simbolo, come modo per celebrare e onorare i sacrifici compiuti dagli afroamericani. Migliaia di persone dovrebbero partecipare alle manifestazioni previste in tutto il paese per commemorare l'emancipazione della comunità nera da New York a Los Angeles.